E anche quest'anno siamo giunti alla diciannovesima edizione del Pavese Festival, uno degli eventi più importanti non solo per Santo Stefano Belbo ma anche per il Piemonte. E non per niente il Pavese Festival è stato realizzato anche con il prezioso contributo della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che ha riconosciuto il Pavese Festival come uno dei tre eventi più importanti che danno maggiore lustro al Piemonte insieme a Collisioni e alla Fiera del Tartufo di Alba. Pavese Festival che è realizzato grazie all'incessante lavoro della Fondazione Cesare Pavese e ogni anno il Pavese Festival si arricchisce di eventi importanti, non solo eventi culturali, eventi musicali, tutto ruota attorno ai luoghi pavesiani, tutto ruota attorno alla figura di Cesare Pavese.